Ciao carissimi bentornati in un nuovo video, oggi scopriremo insieme come parlare delle emozioni in italiano ovvero come esprimere le proprie emozioni in italiano, alcune frasi che potete usare e alcuni punti che sono carini da capire per poter usare meglio queste frasi in italiano, ok? Quindi se siete pronti direi che possiamo cominciare! Allora ragazzi, quelli più semplici da conoscere sono i classici sono felice, sono contento, oppure sono triste, sono dispiaciuto, sono arrabbiato oppure se sei molto arrabbiato sono furioso, furiosa Quindi il modo più semplice ovviamente per esprimere emozioni è mettere sono più l'eventuale parola di cui hai bisogno per esprimere l'emozione di quel momento quindi questo è un modo semplicissimo in italiano per farlo e non vorrei dilongarmi su questo discorso Passiamo invece a una storiella che inventerò, cercherò di usare varie emozioni per creare una storiella in modo che potete vedere come si possono esprimere in italiano, ok? Cercherò di usare un po' tutti gli stati d'animo Ok, iniziamo sempre con la nonna perché la nonna è, giuro, mi dà creatività per creare le storie Facciamo il caso che la nonna era da sola in casa e stava provando tristezza Quindi io arrivo a casa, la vedo e la nonna mi dice Guarda, in questo momento sono molto triste ma allo stesso tempo sono molto emozionata e in ansia E io le chiedo, mamma mia nonna ma tu sei triste? Sei emozionata e sei in ansia? Perché? Lei mi dice, guarda Albi, sì, sono triste perché presto dovrò andare via di casa Dovrò lasciare la mia casa qui tutta sola E io le chiedo, ma perché? Il perché è legato al fatto di essere io molto emozionata e in ansia Io le chiedo, ma perché sei emozionata e in ansia? Dimmelo su, sputa il rospo Ovvero, per chi di voi in italiano per la vita saprà il significato di sputare il rospo Ovvero vuol dire, dimmi il segreto, dimmi quello che non mi stai dicendo, dimmelo Sputa il rospo nonna E la nonna mi dice, va bene, va bene, lo sputo subito La realtà è che sono molto emozionata e molto in ansia, molto ansiosa di andare al mare settimana prossima Ho comprato questo viaggio al mare e settimana prossima parto Quindi sono emozionata, sono ansiosa di andare al mare Però sono un po' triste perché mi mancherà la mia casetta, il mio caffè, la mia televisione, eccetera E io le dico, ok nonna, lo so che ti mancherà, però sei qua tutto l'anno Quindi io sono d'accordo con te sull'essere entusiasta, felice, contenta di andare al mare Non sull'essere triste perché passeranno questi dieci giorni e poi già sarai di nuovo a casa tua, no? E lei mi dice, eh sì, però mi viene un po' di nostalgia Mi viene un po' di nostalgia Quando sono al mare sono contento i primi giorni e poi però mi viene un po' di nostalgia, un po' di tristezza, un po' di preoccupazione Penso alla mia casa, alle mie cose che lascio qui, alle puntate della telenovela che guardo e che a volte perdo al mare Perché al mare sono contenta, sono entusiasta, sono felice, sono rilassata E quindi magari vado in spiaggia e mi dimentico di guardare la mia puntata E poi là al mare dico alle mie amiche che mi sento arrabbiata Arrabbiata e preoccupata di aver perso delle puntate importanti della telenovela E poi in futuro non capirò cosa è successo Quindi ragazzi, per esprimere le emozioni, come vedete, ci sono tanti aggettivi che potete usare E potete anche usarli in modo diverso in base all'intensità che emettete E l'intensità la potete mettere più alta o più bassa in base all'uso di certe paroline che vediamo adesso Ho fatto alcuni... me ne sono scritte alcune Alcune di queste paroline possono essere come Molto, un po', poco, abbastanza, tantissimo, moltissimo, pochissimo, profondamente, immensamente Sono tante parole Usiamole adesso un attimo per aiutarvi a capire come danno questa intensità alle emozioni Allora, la nonna potrebbe dire Ok, è là al mare Facciamo il caso che io l'ho salutata, l'ho vista a casa Adesso è già partita, è già al mare e la chiamo Ciao nonna, allora, come stanno andando le vacanze? Ti senti davvero così triste come mi avevi detto? Con così tanta nostalgia? E lei mi risponde Guarda, sì, sono profondamente triste Sono profondamente triste Vedete come amplifica l'emozione? Sono profondamente triste Sono immensamente preoccupata Sono immensamente preoccupata Sono infinitamente triste Sono infinitamente preoccupata Noi italiani usiamo molto queste paroline, no? Per dare, amplificare le emozioni Quindi sono più comuni Sono ovviamente, sono molto triste Molto triste E però poi le chiedo Ma sei anche felice? Oh, lei mi dice Oh, sì, 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 sì Sono anche immensamente felice Profondamente felice Sono molto contenta Sono veramente contenta Veramente contenta Ma sei felice? Davvero? E lei mi dice Sì, sì, moltissimo Sì, sì, moltissimo E invece le richiedo Ma quant'è la tua tristezza? È tanta? E lei mi dice No, 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 no Guarda, pochissima Pochissima La mia felicità è tantissima Sono triste Ma pochissimo Ok? E poi concludo Visto che so che è sempre ansiosa È sempre in ansia Ma sei un po' in ansia di tornare a casa? E lei mi risponde Abbastanza Sono abbastanza in ansia di tornare a casa Abbastanza in ansia di tornare a casa Vedete? Tutte queste parole Ricordatevele Perché sono molto utili per amplificare O diminuire le emozioni che volete esprimere in italiano Ok? Poi un'altra cosa importante da ricordare Riguardo all'esprimere le vostre emozioni È state attenti a come le usate In base a con chi parlate Vi faccio un esempio Se volete dire a qualcuno che non conoscete Che avete visto oggi per la prima volta Che siete tristi Sarebbe un po' fuori luogo dire Ah sto malissimo Guarda sto proprio malissimo Non hai idea di quanto sto male Sarebbe un po' esagerato Se non conoscete la persona Lei può chiedervi Guarda Come stai per educazione? E voi potete dire Ah oggi non sto benissimo Ma dai andiamo avanti Oggi non sto benissimo Ma dai andiamo avanti Non posso lamentarmi È un po' più delicata Come risposta Un po' meno Dà un po' meno confidenza Rispetto a Non conoscere la persona Magari la persona sta chiedendo Solo per educazione E voi rispondere Ah guarda Sto malissimo Mi sento malissimo Non hai idea Invece che rispondere Guarda oggi Non sto molto bene oggi Non sto molto bene oggi Oggi non sto tanto bene Ma non preoccuparti Tutto a posto Ok questo è un discorso di confidenza Una persona che conosci Non conosci Ok quindi state attenti A come esprimete le emozioni In base al tipo di persona Con cui state parlando Ma questo penso sia un po' In generale In ogni lingua Non è una cosa legata All'italiano Ok Poi ovviamente Questo ancora di più in italiano Il tono della voce È molto importante Nell'esprimere le vostre emozioni Ok quindi noi italiani Siamo molto espressivi Muoviamo molto le mani E a volte io parlo altre lingue Vedo che muovo meno le mani Che in italiano E non è perché c'è questa cosa Come si vede nei film Negli stereotipi classici Che noi siamo lì tutto il tempo A far così Ma è vero Che a volte io mi ritrovo a dire Isa ma cosa stai dicendo Oppure ma che stai dicendo È una cosa che c'è Ce l'abbiamo Quindi ancora di più Invece che solo le mani Il tono di voce Quando vuoi esprimere Le emozioni in italiano Rafforza proprio Il messaggio che vuoi passare La frase che vuoi dire O l'emozione che vuoi esprimere Ok Quindi questo anche Ascoltando molto Film Specialmente I film sono molto utili in questo Perché gli attori Esprimono le proprie emozioni No Attraverso il loro modo di essere Di diciamo Di rappresentare una scena Quindi i film sono molto utili per voi Per imparare come esprimere Con che tono di voce Le emozioni in italiano Ok E per concludere ti ricordo Che puoi scaricare Le sette regole di italiano automatico Per veramente capire Il perché Del come facciamo le cose Infatti Siamo un canale Interamente in italiano Noi aiutiamo Chi già ha una base in italiano Quindi chi ha già una base Di comprensione Noi lo possiamo aiutare Se sei qui ovviamente Tu hai una base di comprensione E ti portiamo quindi Da questa base di comprensione A padroneggiare la lingua Ma non solo Imparare cose nuove Migliorare te stesso Scoprire l'Italia Fare amicizie Scoprire posti in Italia Che non conoscevi Quindi Un viaggio che dura per sempre Poi alla scoperta Della cultura italiana Della Quindi non solo la lingua Ma la cultura italiana Nuovi concetti Anche per vivere meglio E Tante tante cose Ok Quindi questo è un viaggio Che dura per sempre Ma per capire Il perché di questo Devi proprio Ascoltare Le sette regole Di italiano automatico Che ti faranno capire Alla perfezione Il metodo Il nostro approccio La nostra filosofia In italiano automatico Sono già più di dieci anni Che abbiamo questo progetto Quindi Siamo guidati Da una passione Che va al di là Della lingua Se no vi dico la verità Avrei già smesso da tempo Perché la mia passione principale Non è solo Aiutarvi con l'italiano Ma Aiutarvi a Creare una voglia Di continuare A imparare cose nuove Crescere Per poi aiutare Anche gli altri E tutto questo Attraverso l'italiano Quindi Vuoi scoprire Contenuti Materiali Risorse Musiche Cinema Tutto veramente Attraverso l'italiano Ma con un proposito Ancora più grande Ok Detto ciò Io vi mando Un abbraccione Guardate le sette regole Di italiano automatico Le trovate su youtube O in descrizione Potete scaricare Un video Un audio E una trascrizione Di tutte le regole Per veramente Studiarle Impararle E Già facendo questo Migliorerete Il vostro italiano Ma io vi lascio Vi mando un abbraccio E noi ci vediamo Settimana prossima Settimana prossima